Una grave notizia, spero che gli organi inquirenti possano fare subito piena luce. Così il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, esprime a nome di tutta l'amministrazione comunale della maggioranza in consiglio il proprio sdegno e ferma condanna per il ritrovamento di 5 cartucce lungo la strada 32 di proprietà proprio del comune ciancianese. Le cartucce sono state ritrovate attaccate ad una trave di legno lungo la strada provinciale che collega Cianciana con Ribera. dove, a seguito di una frana, si è reso necessario l'intervento di messa in sicurezza. I lavori sono stati consegnati da qualche giorno dopo regolare gara d'appalto. La ditta che si è giudicata all'opera non ha ancora cominciato ai lavori e proprio per questo motivo non si capisce se l'avvertimento si è rivolto al comune oppure alla ditta. Indipendentemente da tutto, continua il primo cittadino di Cianciana, rimane un atto gravissimo ma al contempo dico ai responsabili che non abbiamo nessuna paura, agiremo sempre nel pieno rispetto delle leggi e delle regole. Da ormai quasi sette anni, aggiunge Francesco Martorana, sono a capo dell'amministrazione comunale e in tutto questo tempo mi sono sempre battuto per la legalità. Sindaco che esprime piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura affinché possano venire a capo di questo grave fatto e che rivolge anche un pensiero alla ditta che dovrà svolgere i lavori affinché possa operare in tranquillità nella consapevolezza che il comune di Cianciana e le forze dell'ordine saranno al fianco di titolari e dipendenti impegnati nella messa in sicurezza dell'arteria.